Da Babela alla Macedonia oggi continua a occuparsi del Vangelo e della letteratura che ci viene offerta dalla Chiesa per meditare intorno al mistero di Dio nel tempo ordinario, siamo nella terza domenica del tempo ordinario e Gesù comincia ad andare in giro per il suo territorio. Abbiamo letto nei Vangeli passati che nel battesimo soprattutto di Gesù lo Spirito Santo scende su di lui e conferma la sua missione, qui c'è tutta una grande riflessione da parte di teologi se Gesù aveva già davanti tutto in modo chiaro oppure prendeva coscienza esattamente come prende coscienza gradualmente ogni intelligenza umana se prende coscienza della sua missione e qui inizia proprio la sua missione tanto è vero che abbiamo ancora una volta Giovanni Battista che lo presenta in qualche modo e Giovanni Battista anche lui gradualmente prende coscienza di questo personaggio che ha davanti tanto è vero che il Vangelo dice un paio di volte il battezzatore io non lo conoscevo, io ho preso coscienza quindi della figura straordinaria di questo mio parente che stava davanti a me quindi ai dubbi, alle interrogativi, alle domande e quindi anche lui fa un cammino di presa di coscienza che Gesù inizia la sua missione e quindi comincia andare effettivamente in giro ma è solo perché in questa domenica il Vangelo dice che comincia a scegliere i primi discepoli. incontra i discepoli lui gli dice venite loro vengono, è normale. Sembra una cosa così ovvia no? Che come se ci avessero, noi che ci mettiamo così tanto a prendere delle decisioni pare che lì sia saltato il tempo, non ci sia più la differenza tra la chiamata e la presa di coscienza di questa chiamata. Effettivamente sembra essere così anche quando chiama Matteo questo subito dice il Vangelo si alza e parte, lascia lì tutti i suoi soldi, le sue scartoffie e segue Gesù. Questo per dire l'immediatezza di una risposta. Non è per tutti così, ad esempio noi abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni che Giovanni e Andrea che sono realmente i primi due discepoli stettero con lui tutta una giornata per prendere coscienza e quindi dover fare una scelta del seguire Gesù. Comunque è interessante, interessante perché Gesù non rimane da solo, vuole che in questa sua impresa, cioè in questa sua missione sia accompagnato da persone che hanno scelto di condividere con lui il Vangelo della salvezza. A me viene in mente un altro episodio, quello del giovane ricco, dove Gesù invita qualcuno e questo non ci viene. E questo non ci viene. Lui non mette mai un obbligo. No, no, lascia tutta la libertà, tanto è vero che il giovane ricco dopo essere stato chiamato se ne va via triste perché di fronte all'impellente invito di Gesù va, vendi tutto quello che hai e poi seguimi. Eh no, dice il Vangelo, era troppo ricco per poterlo seguire e quindi la sua libertà, nonostante fosse un bravo ragazzo, ha pensato bene di non andare fino in fondo alla chiamata. Gesù va in giro e predica e predica una cosa semplice alla fine. Sì. Cioè convertitevi e credete al Vangelo, ma cosa vuol dire convertitevi? Convertire sì, non è solamente un problema di etico morale, cambio vita, cambio vita perché seguo delle regole. No, il cambiamento di vita, come dice la parola stessa, è un cambiamento metanoeite, cambiate vita, vuol dire cambiare visione, cambiare sguardo sull'esistenza, cambiare radicalmente come voi vedete la vita, come la valutate. Quindi la conversione non è solamente una conversione di ordine morale, è una conversione in ordine alla verità della propria esistenza. Mi viene in mente questo discorso rispetto al Vangelo, il Vangelo è una buona notizia, allora la conversione in realtà significa anche accogliere una buona notizia. La parola stessa Vangelo e o Angelion vuol dire che è una lieta notizia, è una notizia gioiosa, cioè ti riguarda in quanto corrisponde o comunque risponde al tuo bisogno di felicità. Questo è un punto che noi dimentichiamo, perché contorniamo sempre la parola conversione come di una pesantezza, una pesantezza che mortifica anziché a spalancare e aprire una strada per la felicità.